In compagnia di Pietro Zito, chef, nonché curatore questa sera, di tutti quelli che saranno i piatti abbinati a questi vini DOC e DOCG. Ci dai qualche anticipazione? È un menù essenzialmente stagionale, perché tutto quello che nel mio orto si produce questi giorni l'ho portato a Roma, non è emigrato a Roma. Abbiamo anche molti legumi, per cui il periodo dei legumi, cime di rape, gli agrumi che si legano con le verdure e con i legumi anche. Abbiamo i cardi selvatichi e le cime di rape. Cerchiamo di dare dei piatti molto forti per un vino importante come l'Ue di Troia. Senti Pietro, tu sei questa sera signore del tuo regno che è la cucina, però tu sei anche ambasciatore della cucina italiana, ma in particolar modo pugliese nel resto del mondo. Allora, lo stato dell'arte della cucina italiana. Ecco, lasciamo perdere tutte le varie tipologie di programmi dove si spadella e si danno ricette pur che sia. Secondo te, quando si parla di eccellenza a tavola e nel piatto, che cosa dobbiamo guardare? Quali sono i criteri di giudizio? Eccellenza, io parlerei di rispetto di un territorio, di conoscenza di un prodotto, perché quando si conosce un prodotto, si conoscono i produttori onesti, bisogna saperli rispettare nel piatto. Per cui, una cucina molto molto semplice. Ma la Puglia, d'altronde, è molto semplice la Puglia. Semplicità, generosità e allegria anche. Per cui, cerchiamo di non essere molto molto tecnici, ma rimaniamo come siamo nati, contadini. Oh, bravo! Questo mi piace molto. Questo vuol dire che allora nella tua cucina trovano sicuramente spazio, magari rielaborate un po' con la tua genialità, la tua fantasia, le tipiche ricette, diciamo, della tradizione, immagino. Sicuramente sono un testimone di un cibo della tradizione, abbiamo cercato un po' di alleggerire un po' le cotture, come mia madre, mia nonna, che aveva lunghe, lunghe ore per il ragù. Cerchiamo di snellire questo, di accorciare i tempi, cerchiamo di cucinare con molto rispetto e semplicità, conoscendo i nostri commensali, che vengono da tutto il mondo, per sentire la Puglia. Grazie, Pietro.